Una bella partita, è andato davvero bene, nonostante, è stato fermo un mese, 10 giorni, 40 giorni e ancora... Con tre tita, abbiamo vinto con tre tita, quindi... Quindi è andato molto bene, servizio a posto come prima e anche lui mi ha aiutato moltissimo. Molto bui, sì, grande squadra, molto tanto questa vittoria, perché l'anno scorso ero perso il finale. C'è anche il vicepresidente, è qua. Ecco! Non possiamo niente, alla prossima seconda divisione, carichi! Grazie, 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 bravi complimenti!